SONO IO, IL PROFESSOR KAOS! Ho un piccolo problema novellino, ricordi gli adepti che avevo assunto? Non li posso pagare ora perché è un po' mandato all'aria al mio piano così non ho soldi e quindi si sono tutti un pochino arrabbiati. Ci incontriamo in banca? Mi farebbe davvero piacere! Oh, da questa parte! Visto? È qui! Ce l'hai fatta venire, grazie! Ok, quindi contestiamo il conto con questa persona? Proprio così avevo assunto degli adepti per aiutarmi a distruggere la città, ma il mio piano non è andato a buon fine quindi ho problemi a pagare gli adepti. Però possiamo aprire una società a responsabilità limitata per finanziare un conto cointestato con il tuo amico utilizzando la sua casa come garanzia per un fondo di investimento offshore ed è andata! Che cosa? Casa del tuo amico è andata. Ora è proprietà di una compagnia di Hong Kong. Arrivederci e grazie! Io volevo solo pagare i miei adepti, non che togliessero la casa al mio amico! Già, l'economia non è proprio il tuo apporto, eh? Il tuo amico andrà meglio! Sì, dai, gioca tu! Gira, gira la fortuna! Gira e dove va? Nessuno lo sa! Prova anche tu! Gira la ruota e va! Dove si ferma? Nessuno lo sa! Raggiungi il tuo obiettivo avanzamento classe e vai a livello economico successivo. Scendi di livello se fallisci! Cento! Cento! Ed è immobiliare! Ora hai il bonus aiuto di stato. Se vai in bancarotta saranno cazzi dei contribuenti! Non posso guardare! Features sulla soia! Bonus investimento agile! Triplichi il valore della prossima casella su cui capiterai! Oh sì, usa quel bonus! Oh oh! Oro bello! Bonus oro per cash! E le caselle bancarotta diventeranno oro! Oh! Oro per cash! E la bancarotta si trasforma in oro! E ce l'hai fatta! Uh! Abbiamo dei vincitori! Questi bambini hanno ottenuto un prestito per oltre 80.000 dollari per pagare gli adepti! Anche tu potresti vincere e continuo a provarci! Ecco il tuo segno! No madonnina, grazie mille! Ci sai davvero fare! Ora dobbiamo portarlo ai miei adepti! Pensai ai tuoi risparmi! Non sai mai quando il crimine ci stenderà proprio come una scoreggia! Faccio foto solo con i ricchi sfondati! Eccoli! Sono questi i bambini che hanno pagato dei lavoratori immigrati! Sì, hanno ottenuto un prestito per pagare dei messicani! Sapete cosa significa? Che ci rubano il... Ci rubano il lavoro! Stessino a casa loro! Un momento! Pensavo che ce l'avessimo a morte con la scelta di genere, della sessualità, eccetera! No, quelli sono gli altri! Noi rivolgiamo solo i nostri lavori! Beh, allora prendiamoci il loro lavoro e prendiamo in giro la loro auto-identificazione! Coraggio, gente! Facciamogli vedere come sono fatti gli adepti americani! A proposito di adepti! C'è rubato il lavoro d'adepti! A casa! Fuori dalle palle! Ai ai ai! Ma che cazzo! Ti brucio il culo come il mio conto in banca! Via! Ci saranno altri pettovi in giro! Oh, merda! Attento! L'America è stata costruita dagli americani, non dagli adepti del cazzo! Micro aggressione! Colpisci! Niente debolezze! Niente debolezze! Auto! Vuoi farti ammazzare o qualcosa del genere? Via libera! America! Mamala o vai a farti fottere, socialista! Necessito maz dinero! Cavolo, il mio turno! Arriva, Johanna! Questo è il dono dei fulmini! Oh cazzo, tocca già a me! Perché gli altri non fanno niente! Cavoli! Sta per abbattersi in un'autentica distruzione! Sicuro di non essere radioattivo, professore! Ok, e ora? Disculpe! No más! No más! Un radical sic in meno! Riposino! Cavoli, quello sì che era super! Mi dispiace di non avere abbastanza posti da adepti disponibili! Ma grazie di nuovo! Chi lo sa, magari un giorno potremmo mettere su la nostra legione di super cattivi! Ciao! Direi, bambini, andate a giocare fuori! Non vuol dire picchiatevi per strada in pigiama! Vuoi un'altra bella dose di capitalismo, eh? Sporchiamoci le mani! Tira la ruota e va! Dove si ferma nessuno lo sa! È uscito oro! Bonus oro per cash! E le caselle bancarotta diventeranno oro! Ed è immobiliare! Ora hai il bonus aiuto di stato! Se vai in bancarotta, saranno cazzi dei contribuenti! Azioni tecnologiche! Bonus insider trading! Usalo prima di girare e fermerai il giro! Oh sì, usa quel bonus! E bingo! Credit default swap! Il che significa che hai ottenuto il bonus manipolazione del mercato! Se lo usi prima di girare, puoi fermare l'indicatore ovunque tu voglia! Eccoci! Manipolazione del mercato! Sei passato al livello economico successivo! Faccio foto solo con i ricchi sfondati!